Un Natale a misura di bambino, arricchito da un boschetto incantato che potrebbe addirittura trasformarsi in una nuova area verde cittadina. Si accenderà così la magia delle festività di dicembre in centro storico, con un fitto calendario di eventi, animazioni, concerti e iniziative pubbliche nelle strade principali del cuore urbano. Il tutto prenderà il via questo sabato, alle ore 17.30, con la cerimonia di accensione del grande albero, alto oltre 20 metri, donato dalla cittadina Nella Guidotti di Carpaneto. Parallelamente, verrà attivato anche il boschetto incantato con Babbo Natale in piazza Cavalli. È un piccolo bosco ricreato nel centro della piazza, piazza Cavalli, in cui ci sarà oltre la casetta di Babbo Natale, la slitta, le renne. Un bosco incantato che potrebbe tramutarsi anche in una nuova area verde cittadina. La novità infatti è proprio questa, che tutti i pini che vengono messi in piazza possono essere acquistati sotto forma di una donazione. La donazione verrà data la casa di Iris e il bosco, invece, tutti questi pini verranno poi piantati in un'area scelta dal comune. Il calendario completo con tutti gli appuntamenti è consultabile su www.succedapiacenza.it